Il contachilometri fermo, un intreccio di lamiere e fili, quello che resta della Fiat Croma blindata, l'auto sulla quale persero la vita gli agenti di scorta al magistrato Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci, è custodito nella teca che dopo aver fatto il Giro d'Italia è arrivata in provincia di Coma, a Cantù, in piazza Garibaldi. La quarto Savona 15, dal nome della sigla radio attribuita agli uomini della scorta di Falcone, è la testimonianza concreta di quanto avvenne quel giorno, sull'autostrada 29 all'altezza dello svincolo per Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi all'incontro, cosa rimane e chi resta, organizzato per l'occasione al teatro Santiodoro di Cantù, ha partecipato Tina Montinaro, vedova del capo scorta di Falcone, Antonio Montinaro. Sono rimasti lì i resti di quei ragazzi, i sogni di quei ragazzi, la vita e quindi delle loro famiglie. Delle loro famiglie e quindi è importante portarla in giro perché i giovani devono sapere di che cosa sono stati capaci di fare i mafiosi, quelli che si ritengono uomini d'onore, che di onore non hanno nulla. E quindi è importante farla camminare in tutta Italia proprio per dimostrare che non li hanno fermati, perché noi andiamo avanti, la Quarto Savona 15 continua a camminare, a noi non ci hanno fatto niente, noi andiamo avanti con i nostri dolori, le nostre mancanze, la nostra perdita. Un appello rivolto alle nuove generazioni affinché combattano le mafie. Queste testimonianze di grande coraggio possono essere fondamentali affinché le future generazioni trovino dentro di sé il coraggio per contrastare le mafie. La politica deve fare tanto, deve alzare i livelli di sicurezza, i livelli di attenzione, la conservazione di quei presidi di sicurezza e di legalità assolutamente fondamentali per garantire legalità e sicurezza sul territorio. Il convegno organizzato dal comune di Cantù e dalla consulta permanente sulla sicurezza urbana e legalità in collaborazione con il Centro Studi Sociali contro le mafie e progetto San Francesco è parte della rassegna Noi Siamo Loro. Oggi è un inizio, noi vogliamo che questo sia l'inizio di oggi, una settimana che sarà a seguire anche per i prossimi anni. Non vogliamo fare la passerella, non ci interessa, però continuiamo a parlare di cultura della legalità e la libertà, io dico sempre ragazzi, la libertà della denuncia. Dobbiamo avere questa possibilità.